Bene, buonasera, vediamo, adesso qui ci sono due utenti, ma comunque stiamo provando con il C Sharp su Spascial che è una novità degli ultimi mesi, prima era disponibile soltanto in prova e soltanto su alcuni che avevano la possibilità di provarlo per qualche mese e adesso è disponibile in beta pubblica, quindi tutti possono usarlo e quindi io ho fatto un piccolo esperimento nella scena base in cui ho inserito un cubo, gli ho messo uno script e adesso questo script si vede che funziona perché cliccando sul cubo vedete che il cubo ruota e lasciando il click invece smette di ruotare, quindi questo è l'esperimento come si fa a fare tutto ciò? Occorre avere il toolkit ultima versione il toolkit ultima versione necessita di un pochino di cautela per installare questi pezzi quindi bisogna in particolare crearsi una cartella che di solito si chiama script, sto gli assets, scripts sotto questa cartella bisogna creare questo oggetto che sarebbe un create assembly definition questa assembly definition che ho chiamato pacchio posso chiamarla assembly e qualcosa comunque sarebbe l'assembly definition pacchio gli ho detto che gli ho dato un root namespace pacchio namespace perché loro consigliano loro consigliano di fare più qua che dice avete vuoto e di mettergli special unity quindi facciamo qua di spettere specialsys unity sdk ok? quindi l'abbiamo fatto e togliamo questa poi loro suggeriscono di andare ancora nella rotellina nella rotellina e di inserire praticamente il nome dell'assembly in questo caso vi ricordate pacchio dentro l'active package qua a questo punto facendo queste operazioni io cosa ho fatto? ho creato lo script rotate questo script lo potevo crearlo adesso se vedete questo qua è lui però se volessimo crearlo creare un altro basta fare create create cscript questo vedete che lui di default si chiama new behavior script possiamo chiamarlo Pluto ecco la vediamo dall'inizio quindi vedete la novità è che possiamo finalmente fare un Pluto vedete che lui gli ha dato un namespace pacchio namespace no aspetta vediamo così l'ha messo dentro pacchio namespace l'ha chiamato Pluto e quindi qui a questo punto dentro il metodo update possiamo metterci il fatto che ruoti quindi per esempio noi possiamo andare dentro pacchio e vedete che il pezzo che no pacchio era l'assembly scusate possiamo andare dentro rotate vedere quello che faceva che era questo l'update e mettergli praticamente semplicemente in rotate rotation angle e poi dobbiamo copiarci anche questa però adesso cominciamo a copiarci il il pezzo di prima beh, magari facciamo che copiarlo tutto per semplicità andiamo dentro Pluto che era questo ricordiamoci che dobbiamo fare si chiama Pluto perché lui vuole che assolutamente si chiami come il file quindi se no darebbe errore Pluto qui praticamente lo facciamo ruotare sempre quindi togliamo tutta la parte che controllava se dove ruotare o meno gli mettiamo che ruota sempre ok e gli togliamo semplicemente il pezzo on mouse down on mouse up questo qui che era aggiunto secondariamente e quindi abbiamo praticamente solo questo quindi pacchio nel face perché l'ho creato così in namespace Pluto rotation angle questo viene dato dal sito e quindi a questo punto ctrl S abbiamo questo questo Pluto che possiamo agganciare in luogo quindi possiamo andare il nostro il nostro cumo che deve avere un boss collider ma prendiamo il rotate script di prima e glielo togliamo facciamo un remove component e gli mettiamo dentro questo cubo facciamo Pluto Pluto che è uno script diverso vedete che me l'ha messo a questo punto succedono un po' di cose che è un po' particolari perché cerca quando lo si deploia bisogna deploiarlo con test active scene test active scene abbiamo visto che c'è qualche problema perché magari ci piega un attimo a compilarlo proviamo a vedere se riesce a pubblicarlo facciamo test active scene ah ricordatevi che comunque qui adesso non si vede ma dovete fare in modo che la scena che pubblicate sia pubblicata dentro dentro le impostazioni del del componente di specialsdk vediamo se siamo fortunati ecco me lo sta pubblicando butto via il precedente i precedenti ok perché se no spesso non funziona bene e quindi vedete che abbiamo il nostro cubo che sta tranquillamente girando perché c'è lo script che a questo punto era quello originale che quindi anche se lo clicco non succede niente ora per fare questo faccio solo un piccolo passo indietro perché in realtà abbiamo il abbiamo proprio su special l'insieme di istruzioni per fare queste cose quindi se noi praticamente scendiamo qua scendiamo ecco vedete che c'è questo ho seguito questo tutorial piccolo tutorial sono andato sulla parte che mi interessava che era C Sharp Scripting sono andato sull'overview in questo caso sono andato sul getting started sul getting started mi dice quello che vi ho già detto prima è di creare una cartella di chiamarla scripts dentro a questa cartella di fare una create assembly definition quella che io ho chiamato pacchio e dentro quella cartella c'è il pacchio code space namespace qui chiama my code lui e poi dice di metterci reference assembly quindi reference assembly dice di metterci specialsys in tsdk quello che vi ho fatto vedere prima e poi vi dice finalmente di andare dentro la configurazione di metterci praticamente il c sharp assembly che io ho messo pacchio mentre invece ricordatevi comunque vi ho detto prima che qui deve esserci la scena che volete pubblicare altrimenti vi confondete e poi niente dice a questo punto pubblicate e quindi avete avete visto che abbiamo praticamente il nostro il nostro script che gira quindi se vogliamo tornare in oculo prima basta ripubblicarlo con lo script che regiva al click e questo è tutto grazie buona giornata